Bisiac e Carru Oltre ad aver consolidato la propria leadership nella innovation technology, la Bisiac e Carru è leader nell'evoluzione e nello sviluppo tecnologico grazie allo sviluppo di celle e linee robotizzate come il Tauro Gantry System a 10 assi che si sposta su rotaie di oltre 150 metri e si è rivelato indispensabile nella lavorazione dei vagoni ferroviari in alluminio. Il Tauro System Gantry è la più grande espressione dell'impianto di lavorazione flessibile. Esso unisce alle eccezionali caratteristiche del centro di lavorazione Bisiac e Carru la possibilità di operare in diverse aree di lavoro o su elementi di grande dimensione. Bisiac e Carru è anche il laboratorio di ricerca e si è impegnata nell'innovazione tecnologica del settore. Bisiac e Carru, la nuova frontiera dell'automazione. Bisiac e Carru, la nuova frontiera dell'automazione.